La mia domanda era questa qui, come mai se la tecnologia extraterrestre e questi esseri sono ovviamente molti più evoluti di noi, ci sono stati dei ritrovamenti sia di dischi che di piloti, essendo che la nostra tecnologia non può fare nulla contro la loro? Sì, allora sono test, loro fanno dei test. Questi esseri sono l'acceleratore e il freno di Dio. Siccome il progetto di Dio è l'Apocalisse, che viene rivelato a Giovanni duemila anni fa, l'Apocalisse si deve compiere e l'Apocalisse deve avvenire all'interno di un tempo X che deve essere in sincronia con le necessità del grande universo, perché è tutta una grande armonia. Quindi tu devi entrare in fase. Siccome noi non sappiamo niente di tutto questo, gli extraterrestri sono quelli che modulano questa fase, quindi loro o spingono o trattengono per farci arrivare all'ora X come Dio vuole. Sono i suoi strumenti. Quindi hanno lasciato, facendo finta che queste astronavi sono state abbattute, ma io ho parlato con degli scienziati che hanno lavorato a bordo dei dischi volanti, alcuni li hanno trovati nuovi di pacca dentro delle caverne, proprio gli mancava il fiocchetto del regalo, soprattutto dischi dei grigi. Quindi quei crash sono stati voluti e i piloti erano dei cloni, non erano veri extraterrestri, erano esseri artificiali, intelligenti ma artificiali, come li potremmo chiamare? Sì, cloni o cyborg, non lo so, come si chiamano? Androidi, sì, una roba così. E li hanno lasciati perché in quel momento gli americani, ma anche i sovietici, stavano, e anche i nazisti, stavano tutti cercando di sviluppare la bomba atomica. Quindi loro hanno voluto lasciare la prova fisica della loro potenza tecnologica per far vedere all'umanità che c'era una potenza maggiore che poteva aiutare. Perché nel programma c'era vi lasciamo il disco, lo vedete quanto è evoluto, che poi rispetto alle loro tecnologie più avanzate erano ferraglia, ma già per noi fibre otiche, monitor, touch screen, cioè già erano robe mirabolanti. Infatti io ho la relazione dei primi ingegneri che sono saliti a bordo dei dischi di Roswell, loro cercavano la timoneria, gli alettoni, i tubi di scarico, cioè erano confusi perché erano preparati per quel tipo di tecnologia. Quindi hanno lasciato queste cose perché dopo avrebbero avuto gli incontri con i presidenti Eisenhower, Khrushchev, eccetera, Kennedy, quindi era tutto un programma. E poi loro devono lasciare all'umanità la scelta. Quindi se l'umanità nella sua attitudine negativa si sta autodistruggendo troppo lentamente, siccome noi ti lasciamo tecnologia più avanzata, così fai armi più potenti e crepi prima nell'ora che noi decidiamo, per tua scelta. Se invece capisci e cambi testa che non ti conviene perché c'è una potenza superiore a te e cambi, noi ti diamo la prova che abbiamo il potere di aiutarti. Per questo ci sono stati i crash. Ovviamente poi, sai, tutto quello che dicono i militari bisogna difidare. Però ci sono stati assolutamente. Io ho parlato anche con militari, loro odiano gli extraterrestri perché il militare ragiona sempre con la mentalità del nemico. Quindi quando il Pentagono dice sono una minaccia per la sicurezza nazionale, dicono la verità perché nella testa del pazzo egoico imperialista quei cieli, quei suoli, come ti permetti di entrare senza chiedermi il permesso? Non c'hai il passaporto? Non ti fai, non ti prese... E entri, esci! Cioè mi fai fare una figura di merda a me militare. Entri, esci, mi sbeffeggi, giri intorno ai miei caccia. Cioè quelli sbavano veleno. Dobbiamo entrare in queste logiche per capire. Quelli sbavano, proprio gli esce il fiele. Io ci ho parlato, gli esce il fiele, li odiano. Perché è un concetto di libertà senza frontiere per l'essere umano, che è il terrestre. È illegale. Non passi la dogana. Non paghi le tasse. Non paghi il pedaggio. Visto d'ingresso. Questi ragionano così. Matti. E cioè questi vanno e vengono da tutto l'universo. Non ci sono frontiere. Cioè il nuovo mondo, quello che Cristo ci sta offrendo, è inimmaginabile. È la libertà in una forma che per noi non ha senso. Finiamo l'incontro. Adesso siamo sull'astronave, sulla Terra. Finiamo l'incontro. Andiamo a farci una gita nei boschi di Marte. O andiamo a vedere i laghi di Alfa Centauri. sta per esplodere una supernova, la nascita di un nuovo sistema solare. Andiamo a goderci lo spettacolo. Questo è il nuovo regno. Altro che non ti vaccini, ti amali, muori. Ma va a cagare. In Sardegna, da ragazzini, c'era così un modo di prendersi per il sedere. Si avvicinava uno, guardava così, diceva, ma di qua su docai? Eh? No, di qua su docai? Ti dice, ti posso toccare? Oh, toccami. Ma va a cagare. Ecco, a questa gente, così, non sono nessuno. Cioè, se guardate quella scena, mentre questo signore dice questo, ma lo dice, tronfio, come uno che è convinto che ha potere su di te. Ma va a cagare, Maria, dai, su. Cioè, capite? Ma siamo noi scemi. Ma va a cagare. Noi gli diamo importanza. Non hanno importanza. Non sono nessuno. Al massimo. Il massimo che ci possono fare è ucciderci. Ma rinasciamo. Rinasciamo. A me mi avranno fatto fuori che sei, sette volte, ma minimo. E sono sempre qui a rompere i coglioni. Il bello della legge di causa ed effetto è che il tuo nemico te lo ritrovi col tuo sangue. Non scappi. Dio ti impone con le sue leggi la pace. Quindi non ha senso uccidere. Perché te lo ritrovi. Ci rinasci vicino, diventa tua moglie, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, il tuo datore di lavoro. Le dobbiamo capire queste cose. Se no, noi soffriremo sempre. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. l'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. di Giorgio di Giorgio